Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove per un veicolo in fiamme estinto, al chilometro 32 in direzione Firenze, ci sono 8 chilometri di coda tra Chiesino Zanese e Pistoia. Rallentamenti per una perdita di carico tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPILI, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 291,500 e 291,660 e tra i chilometri 292 e 292,600 circa nei comuni di Impruneta e di Firenze fino al 6 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!